Ciao a tutti dal Team Blacchetti Italia, siamo sul Po, 13 giugno, compagnia di Walter, ho fatto una breccata battutina, alle 3 presto, alle 4 del mattino ci siamo trovati, dopo un'oretta circa di attesa, è arrivato un big fish di 2 metri e 30, intorno ai 100 kg, ora rilascio per il Team Blacchetti Italia, ok, andiamo, big fish, rilascio dai lani, big valla, catturato con catlifter 2, Blacchetti, linello fino a 1.5, ora rilascio, grande, vai big, ciao big, ciao big, ok, big, 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 Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!